Tapi per le bibite completamente biodegradabili, realizzati con amido di mais o caseina, una delle proteine del latte. Con questo progetto tre studenti dell'Istituto Agrario Gallini di Voghera, Maddalena Macelli, Jacopo Rovati e Nicolò Trovato, con la guida del docente Alberto Marchetti, sono diventati protagonisti al concorso I giovani e le scienze indetto dalla Commissione Europea. Il progetto che sarà presentato a maggio nell'Istituto ha ricevuto il plauso anche dalle istituzioni del territorio, come il Consorzio di tutela dei vini dell'Oltrepo, dato che i tappi biodegradabili creati dagli studenti sarebbero destinati specificamente a bevande come vino e birra, perché il 22 aprile, da oltre mezzo secolo, si festeggia la giornata mondiale della terra, momento di discussione e riflessione su temi sempre più stringenti come la sostenibilità e l'economia circolare. Stappiamo idealmente con loro una serie di complimenti, ha detto la Presidente del Consorzio Gilda Fugazza, e ci mettiamo a disposizione perché questa innovazione non rimanga soltanto un progetto, ma possa avere un confronto reale nel nostro mondo del vino, anche coltivando talenti come questi. A concluso Fugazza, possiamo pensare ad un futuro sempre più intelligente e innovativo nel nostro mondo.